E adesso vi dedichiamo questo articolo che riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono Ovar di Maria De Filippi. Il trono Ovar è sicuramente andato in vacanza, ma a quanto pare le polemiche non si stanno stemperando proprio per nulla. Aveva iniziato proprio Riccardo Guarnieri in questo post trono dicendo chiaramente che secondo lui la dichiarazione di Ida Platano Averissimo di Silvia Toffanin non corrispondeva al vero. Ricordiamo Ida Platano aveva detto che non era innamorata, ma innamorata follemente, ma non sapeva che cosa provava lui per lei. Lo stesso Riccardo Guarnieri ha quindi ribaltato la situazione dicendo chiaramente che non era convinto che lei l'amasse veramente. Nel mezzo ci si è messo anche l'ex corteggiatore del programma ossia Fabio Antonucci che ha invitato la dama di Brescia letteralmente ad avere più amore proprio per se stessa. Ida Platano punzecchia Riccardo Guarnieri da Instagram. Ida Platano e Riccardo Guarnieri Temptation Island. E proprio a questa sollecitazione sembra rispondere la stessa Ida Platano direttamente da Instagram. L'unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io, per non essermi amata come meritavo e per non essermi messa spesso come priorità. Oggettivamente appare un messaggio abbastanza esplicito. Ossia raccoglie l'invito di Fabio di pensare più a se stessa che a Riccardo Guarnieri. Bisognerà poi vedere quando rivedrà il corteggiatore di Brindisi a quanto manterrà fede a questa promessa. Sinceramente nel merito o qualche remora, staremo ovviamente a vedere quanto il tempo sarà galantuomo. Certo che che se i due, ossia Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati in questa maniera c'è veramente da chiedersi come si ritroveranno a settembre. Oltretutto, oltre Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra che siano confermatissimi anche il napoletano Armando Incarnato e Gemma Galgani. Per questa ultima è una novità in quanto si parlava di una sua partecipazione al Grande Fratello VIP per settembre-ottobre. Partecipazione che a questo punto sembra del tutto scongiurata. Grazie.